Buonasera a tutti, scusateci innanzitutto per il ritardo, abbiamo avuto un attimo di problemi e abbiamo saputo l'ultimo momento che il dottor Marcardi della Camera di Commercia purtroppo non può raggiungerci per cui abbiamo dovuto chiedere al nostro relatore di poter venire prima per poter parlare con voi. Innanzitutto volevo un attimo parlare di questa iniziativa che come le cambiate stiamo portando avanti. Abbiamo organizzato, grazie alla conoscenza del basso della regione pubblica, questo corso formativo è diviso in quattro giornate, nelle quali andremo a dare un'idea ovviamente, perché il tempo è poco, di che cosa può essere l'economia e come si possa sfruttare. L'idea di cambiamento è questa, oggi soprattutto nel nostro territorio la situazione economica e lavorativa è molto molto complicata. molta gente che ha voglia di fare potrebbe investire in qualche settore, vorremmo dare uno spunto su un nuovo settore che è uno dei pochi settori ad oggi anticinici, uno dei pochi settori che comunque sta andando avanti nonostante la crisi. Quindi dare un'idea di che cosa è, che cosa si può fare, dare le testimonianze di società che in questo settore ci hanno fatto e che vanno molto bene e quindi poter progettare insieme chi abbia voglia di misurarsi in questa avventura su come potersi muovere. La viaggio casa è una giornata, quella di oggi, basata sui nostri primi sistemi di finanziamento che si possono utilizzare. Quindi diversi bandi che abbiamo, ci parlerà il nostro consulente finanziario, diversi bandi esistenti, abbiamo la partecipazione del GAL con Cristiano Legittimo che ci farà anche un escursus dei loro bandi, quindi anche a questi tipi di attività. Nel prossimo giornale parleremo di tre aspetti fondamentali su cui, come dicevo Nia, poter pensare magari di fare qualcosa nella mia economia. L'idea è l'idea dell'agricoltura, quindi fare qualcosa in agricoltura che sia il cosiddetto Dio, come vederlo, come svilupparlo, che prospettive ha. L'altro è sul turismo ecosostenibile, che è un altro settore che sta andando veramente bene. E l'altro invece è sotto tutta la filiera, diciamo, meccanica e industriale, partendo come punto di base con tutto ciò che è il mondo delle attività del riciclo. Vorremmo dare, come dicevo Nia, degli spunti per avere un'idea di base di come potersi muovere in questo settore. Per cui spero che questi corsi possano essere utili a chi è presente, e spero che siano il più interattivi possibile, nel senso non c'è tantissima gente. Per cui se avete domande da fare, cerchiamo di interagire con gli esperti che portiamo, in modo da che ognuno possa avere un'idea, possa strutturare la propria idea secondo i propri moduli. Va bene, io do la parola a Massimiliano Guardati, la ringrazia di essere qui. Allora, buonasera a tutti. Allora, io sono Massimiliano Guardati, mi presento, sono un dottore commercialista, però mi occupo prevalentemente di finanziamenti alle imprese e agli enti pubblici. Tra l'altro mi sono occupato di strutturazioni finanziarie per conto dell'università, in quanto ormai da una decina d'anni io sono in commissione a diritto amministrativo all'università, alla cattiva di diritto ambientale. Quindi mi sono sempre occupato di tematiche che riguardano sia i finanziamenti alle imprese con le attività di consulenza professionale, sia per conto di enti pubblici. Mi sono occupato specificatamente di consulenza in ambito di reperimento di risorse comunitarie e in particolare in ambito ambientale contro la cattiva del diritto ambientale all'università. quindi, tra virgolette, il mio mestiere è stato quello di tentare di riuscire a far avere, ad acquisire risorse agli enti che abbiano natura privata e pubblicistica rivenienti da sommenzioni di carattere europeo, sommenzioni di carattere nazionale o sommenzioni di carattere regionale. Io ho accettato con piacere il viso che mi è stato rivolto in quanto quella di lega ambiente è un'attività che è essenziale sul territorio. Io sono stato tanti anni fa un socio aderente di lega ambiente, quando ero un po' più un mimo e credevo in tante cose, poi dopo con l'età si diventano più disinternati, e c'era un mio amico che è stato trefondatore di lega ambiente a Brindisi, che si chiamava Gianni Pizzi, che probabilmente lo conosci, che mi parlava, ormai sono passati più di vent'anni, di ambiente come opportunità ergonomica. All'epoca non c'era ancora la frattura ambientale di oggi, quindi sembrava fosse una cosa astrusa, completamente fuori dal mondo, si era lontanissimi da quelli che sono i concetti di green economy di oggi. Nel frattempo il mondo è cambiato, il mondo è cambiato perché ci è cambiato il mondo che ci circonda, le strutture che ci circondano sono completamente cambiate. Tanti di noi, fino a 10 anni fa, 15 anni fa, non avevano, non penso di dire una corpelleria, non avevano una coscienza ambientale, proprio nostra personale, eravamo poco attenti ai temi ambientali. Poi dopo ci siamo resi conto che in realtà quello che ci circonda è il nostro mondo e andare ad inquinarlo è un danno prima di tutto per noi, non solo da un punto di vista strettamente biologico, ma anche e soprattutto da un punto di vista strettamente ergonomico, perché le risorse sono ad esaurimento e soprattutto nel momento in cui noi andiamo ad inquinare un'area, o comunque non siamo molto attenti a quelle che sono le peculiarità dal punto di vista biologico-ambientale di livello dell'area, noi facciamo un danno a noi stessi. Immaginate quello che sarebbe la regione in Puglia se non ci fossero stati i terzi del ralto, non ci fosse stato il carbonato riniti. Ora, io per carità non sono un duro e puro dell'ambientalismo assolutamente, solo per un apporcio concreto ai problemi, però è vero che in passato è stato accettato un certo modello di sviluppo che oggi purtroppo non è più tollerabile. Io sono convinto che la questione del tutto a tanto vada comunque risolta per gradi, però è vero che se vogliamo pensare al nostro futuro, dobbiamo pensare all'interno in particolare di quest'area ad un modello di sviluppo distinto. Ecco, arrivo alla Green Economy. Green Economy, che cos'è? La Green Economy è un modello di sviluppo economico distinto da quello a cui siamo stati abituati fino ad un'ora. Non è però, come spesso si pensa, legato ad uno solo settore, ma è quanto di più largo sia possibile immaginare. Fino a qualche anno fa si pensava all'ambiente come al verde pubblico, successivamente si è pensato all'ambiente come il non inquinamento, ma poi si è pensato all'ambiente con un approccio all'energia, energetico. In realtà ciò che è Green Economy va ad intersecarsi in tutti questi ambiti, quindi è energia, è rifiuti, è acqua, è biologico, è food, è mobilità e tutto ciò con cui noi veniamo in contatto giorno per giorno. Faccio questa premessa perché il discorso del finanziamento che abbia una finalità pubblicistica o privatistica, cioè che sia rivolto all'ente pubblico o equiparato all'ente pubblico o che sia rivolto al privato, per creare un senso deve avere una mission, un obiettivo. Questa mission, a differenza di altri settori, in ambito ambientale non può essere mai racchiusa in un unico ambito. Nell'ambito, ci arriverò dopo, nell'ambito dei fondi strutturali europei ci sono stati dei programmi che sono stati specifici per l'ambiente. Il programma che è stato quello più utilizzato, che poi è finito nel 2013, è tenato con la nuova programmazione strutturale leader plus, leader più, e quello che normalmente è stato più utilizzato e accostato al discorso ambientale. Però sarebbe un errore reclutere quello che è l'intervento in ambito ambientale da parte della comunità europea esclusivamente al programma vita, in quanto l'intervento ambientale della comunità europea e di conseguenza tramite la programmazione strutturale, quindi poi tramite la cascata con nazionali, con regionali, è stato quanto più ampio possibile. Quindi se noi pensiamo a ciò che è stato un intervento pubblico in ambito ambientale da parte della comunità europea, dobbiamo necessariamente andare a vedere ciò che sono stati i veri programmi. Umbandue, per esempio, è stato un programma che si è occupato di ridare vita sociale alle città secondo un approccio che ne rispettasse quelle che erano le peculiarità, le caratteristiche, e Umbandue è stato un programma che sotto certi punti di vista è andato ad intersecare delle peculiarità di carattere ambientale, eppure non era un programma di iniziativa comunitaria che era rivolto esclusivamente all'ambiente. Quindi quando parliamo di ambiente in ambito di comunità europea parliamo di più cose, parliamo di una realtà estremamente composita che ha abbracciato tutti i programmi di iniziativa comunitaria. Io, per esempio, ho partecipato con l'Università di Legge in collaborazione con la Sedienza di Roma ad un progetto nell'ambito dell'Iguolo 4e che si occupava di mobilità sostenibile, eppure non era un tema estremamente ambientale, quindi un tema estremamente che ricadeva nell'ambito del programma linear. Questo per tornare a quello che dicevo prima, un po' per le caratteristiche del bene ambiente, da quello è disceso una normazione della materia che è stata estremamente ampia e per ciò che riguarda il discorso prevalentemente di natura economica e di natura finanziaria non è stato mai estremamente rinchiuso in un ambito ristretto così come è avvenuto per altri tipi di categorie. Se io sono un artigiano so che in ambito nazionale la normativa che riguarda quella, i finanziamenti che mi riguardano sono quelli. Se sono un altro tipo di attività vale la stessa cosa, in ambito ambientale no, proprio per questo carattere di interdisciplinarietà dell'iniziativa. Quindi la Commissione Europea ha voluto quanto più occuparsi del tema economico-ambientale del sviluppo sostenibile andando a spaziare in diversi ambiti. E quindi andiamo per ordine. Gli ambiti in cui andiamo a spaziare ho detto sono diversi, però oggi nell'ambito del programma l'Inter più, che è quello che è finanziato con 2.020 milioni di euro, che sono 3.911 milioni di euro, insomma potete immaginare per dare idea di quanti soldi. In euro sono 2.020 milioni, immaginando. Ci sono all'interno della Comunità Europea, però non li diamo tutti a te. Quando si parla di questo strumento di iniziativa comunitaria, parliamo di uno strumento molto alto, che riguarda i comuni, che riguarda le regioni, che riguarda le aziende speciali, che riguarda l'auto, che riguarda tutte le forme di aggregazione che siano di carattere pubblico e poi che riguarda anche ciò che è privato, le iniziative in un'erogra estremamente privata. Quindi, tra i bandi che oggi sono disponibili, c'è l'EcoInnovazione, che è un bando che prescinde dal leader più e che è un bando che riguarda essenzialmente ciò che è la tutela del territorio e ciò che è la tutela del mare. E riguarda il reciclo dei maneriani, i prodotti per l'edilizia sostenibile, il settore alimentare, l'acqua, il green business in genere. E questa è una possibilità finanziaria che arriva a finanziare il 50% dei costi ammissibili e che può essere effettuata sia a partire da un'iniziativa privata che a partire da un'iniziativa di carattere pubblico. EgoInnovazione EgoInnovazione Poi naturalmente vi do anche dei siti di riferimento perché naturalmente io non ho la pretesa nel largo di un quarto d'ora di trattare una materia che è quanto di più vasto possibile non solo dal punto di vista normativo generale ma anche proprio specificatamente dal punto di vista dei finanziamenti. Nel senso che io posso dargli i nomi delle iniziative e posso indicarvi quella che è la loro natura. Noi ci facciamo naturalmente con una chiacchierata di massima, se entrassi nello specifico rischierei che di quello che sto dicendo non vi rimane assolutamente nulla. Quindi io vi do l'indicazione di massima. Poi sulla base di quello magari chiunque di voi sia interessato a fare impresa in ambito ambientale vi posso dare i siti informativi o comunque magari ci interfacciamo diversamente o do delle indicazioni circa eventuali sportelli di carattere pubblico privato che possano aiutarvi in questo. Anche perché proprio per quanto è strutturata la materia in ambito ambientale, proprio per come è strutturata l'anormazione dal punto di vista finanziario, negli anni tante di queste risorse sono andate perse. E questo è un grave problema in generale del mezzogiorno. In Puglia c'è stato un leggero aumento negli ultimi anni, ma ancora non abbiamo sfruttato tutte quelle che sono le risorse a disposizione. Questo accade per tanti motivi che sarebbe complicato andare a spiegare. Sarebbe facile dire polpa di chi amministra. Questo è il terro fino ad un certo punto. Nel senso che io ho lavorato in Regione per un periodo occupando di istruttori e supporto turismo e vi dico che purtroppo le procedure sono talmente farraginose alla base per come sono impostate dalla comunità europea che spesso, anche se c'è la volontà politica di andare ad usufruire di risorse, perché chi fa politica ha piacere in tempi austeri di utilizzare risorse, purtroppo accade spesso che nonostante la volontà ci si sconta con tanti vingoli. Per esempio il fatto che spesso ci sono dei programmi di finanziamento comunitari che sono cofinanziati e quindi per poter accedere a quel cofinanziamento si devono accantonare delle somme che magari in fatto di stabilità tante volte non ti consente di accantonare. Quindi diciamo le problematiche sono più complesse. Però questa è una tematica che riguarda soprattutto l'ente pubblico che non è lontana da noi perché poi magari da un punto di vista ambientale quelle risorse si trasformano nelle viste ciclabili che noi vediamo e dovremmo vedere nei nostri paesi. Quindi è estremamente legato al tema della mobilità sostenibile o comunque legato anche al fatto che possono nascere delle imprese di natura privata intorno agli interessi di natura pubblica. In altre zone d'Europa per esempio il car sharing ha già avuto un'ampia diffusione anche in realtà molto importante. In Italia sotto questo punto di vista siamo ancora arretrati. Questo è un classico esempio di politica pubblica che però si riversa su quelle che sono le opportunità di impresa in ambito privato. E' un po' come funziona per i pubblici in tante nostre città nel senso che c'è la possibilità di utilizzare delle auto o comunque dei mezzi pubblici che non sono di tua proprietà tu le prendi, vai dove devi andare e poi le lasci o sintetizzano in maniera abbastanza rude ma spero efficace. Questo tipo di esperienza di mobilità in altre zone d'Europa esiste ormai da tanti anni. Se qualcuno di voi ti ha avuto la possibilità di andare in dei paesi del nord, in Danimarca, in Svezia, nelle grandi città il traffico è decongestionato oltre che per modelli di carattere storico però anche per questo. Sicuramente ciò non dipende soltanto dalle politiche pubbliche, dipende anche da una diversa cultura che loro hanno della mobilità ed ambientale in generale però sicuramente in città tanto. Tanti di noi sicuramente utilizzerebbero questi strumenti che tra l'altro consentono pure dell'economia oltre che di scala di natura climatistica se avessero questo tipo di opportunità. io vi dico che abbiamo implementato un progetto con l'università con un comune di Bavia ha avuto un grandissimo successo. Abbiamo implementato lo stesso tipo di progetto in un comune della Galapia perché le macchine non sono mai state utilizzate. Questo per carità non per dire che noi terroni sotto tanti punti di vista siamo più inferiori culturalmente dal punto di vista delle tematiche magari non si sono create le condizioni, magari mancavano le infrastrutture perché avesse un senso utilizzare però questo è quello che è accaduto. Quindi diciamo ci sono dal punto di vista dei finanziamenti dei programmi di natura comunitaria che a cascata vanno, incidono su i programmi di ministero dell'ambiente e poi delle regioni, delle province e dei comuni. E poi ci sono delle forme di finanziamento più diretto che però che rientrano, non rientrano nell'ambito della sondenzione diretta ma che possono, a cui si può accedere nel momento in cui si hanno determinate caratteristiche. Quindi se io oggi vi dicessi per fare impresa ambientale c'è questo programma, c'è questo, vi direi una camminata, perché l'impresa ambientale dipende da quel tipo di impresa che viene interamente noi andiamo a fare. Io vi ho detto che in Interpiu ci sono 2020 milioni di euro, però a quei 2020 milioni di euro sono un contenitore a cui accede il pubblico e il privato il privato per poter accedere deve entrare nell'ambito di bandi di reti o di bandi che a cascata arrivano dal ministero dell'ambiente o dalla regione. Così come vi ho fatto l'esempio dell'Ego Innovation per cui tra l'altro ci sono delle giornate informative in cui ancora non sono arrivati, sono previste dal giornale informativo una in Basilicata, una nelle Marche e una in Toscana. e l'Ego Innovation che significa? Significa innovazione di prodotto, di processo o di servizio. Cioè un'innovazione comunque legata strettamente all'ambito ambientale. Con un progetto simile qualche anno fa, cinque anni fa, nell'ambito della regione mezzo abbiamo portato avanti un progetto di riciclo con una delle aziende di riciclo più grosse che ci sono in Italia, riuscendo tra l'altro ad ottenere grandi risultati. Quella è stata una delle esperienze da cui io sono più legato in maniera positiva dal punto di vista professionale perché è un classico esempio in cui le tematiche dell'ambiente e le tematiche dell'economia vanno ad intersecarsi. Cioè noi in questo periodo ci siamo approcciati anche nel nostro territorio finalmente al tema della raccolta differenziata. Poi ci sono come altri problemi. Quella differenziata dovrà finire utilizzata. Io personalmente nemmeno tanti anni fa, tre, quattro anni fa, sono stato artefice di una politica feroce con un'azienda che si occupava del territorio, non dirò mai di quale comune, di smaltimento dei rifiuti e fu minacciato dalla stessa azienda tramite qualche amico scorpiano che avevano di non metterli in mezzo a cose che non mi riguardavano. Che cosa accadeva? Questa azienda andava, prendeva il differenziato e lo andava tutto a me. In un unico contenitore. Per dirvi che purtroppo poi, di vari passo a quella che è stata questa evoluzione culturale e ambientale e anche normativa, non sempre c'è stata un'evoluzione nostra, parlo nostra come parlo a livello di territorio, però c'è anche un aspetto positivo. Nel senso che comunque noi non siamo più quelli di qualche anno fa. Ricordo che le prime conferenze che si facevano colore degli ambienti erano veramente una roba da carbonari. Ora, invece, per fortuna, il messaggio è passato e così come nell'ambito dei finanziamenti il messaggio ambientale ha permeato gli altri tipi di cultura. Però, ripeto, la cosa essenziale è pensare ai finanziamenti comunitari nell'ambito ambientale per ciò che riguarda l'ente pubblico, non so se tra voi c'è solo un'atenza arrivata, c'è qualcuno che si occupa di queste cose nell'ambito dell'ente pubblico, come ad un'opportunità anche di carattere economico. quindi, chiunque avesse l'intenzione di avviare un'attività in ambito ambientale deve tenere presente i parametri di cui ho parlato e quindi potrà avere accesso a un finanziamento di natura nazionale nell'ambito di un buon gestito del Ministero dell'Ambiente, il buon piano operativo nazionale. Cioè, la comunità europea ha i programmi di iniziativa comunitaria, nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria poi ci sono i vari BIC che sono Inter, Urban, Leader più insomma tutti i programmi specifici. Da questi programmi sono dei contenitori dove vengono messi le risorse che i cari stati aderita per la comunità europea lasciano, l'Italia per inciso lascia 18 miliardi di euro l'anno, la comunità europea ne recupera circa 10 in comunità, in quanto le nostre non sono tutte zone di ritardo di sviluppo. Cioè il mezzogiorno è appena uscito dalle aree di ritardo di sviluppo, spero che l'Europa possa avere una propria politica europea, però comunque ciò che noi diamo all'Europa, anche in controsenso rispetto a ciò che spesso si dice, è meno di ciò che riceviamo in termini economici. Questi 10 miliardi di euro vanno poi in quei programmi di cui parlavo prima e in parte vanno anche nei programmi specificatamente ambientali, quindi il Mender Plus, oppure e da lì poi vengono distribuiti a livello nazionale tramite i bandi ministeriali e i PON e al livello regionale tramite i POR, che sono, io normalmente mi sforzo di rendere la maniera semplice, mi rendo conto che per chi non ha detto la paella di POR spesso è abbastanza ostica, sono la maniera in cui la regione Puglia o le regioni in genere vanno a spendere i soldi che la comunità europea in vita mettendo anche dei soldi propri in questi contenitori. E quindi poi ciò che accade a livello comunitario accade anche a livello regionale. A livello regionale ci sono i vari programmi, da quei programmi scendono i vari bandi che possono essere a gradatori o possono essere a sportello, alcuni bandi hanno iniziativa pubblica, altri partono ad iniziativa privata. Quindi tutto questo per dirgli che cosa? E nessuno di voi uscirà oggi da qua, sapete dove fare un progetto ambientale e ti potete utilizzare uno strumento preciso, nel senso che se qualcuno di voi ha intenzione di cimentarsi con una qualsiasi delle tematiche ambientali contro una intenzione di farvi del business dipende dalle caratteristiche specifiche di quella attività dove andare a collocarsi e nell'ambito del finanziamento regionale e nell'ambito del finanziamento nazionale e nell'ambito del finanziamento comunitario. Oltre a questo, naturalmente in generale, poi sicuramente a seconda del proprio, questo sempre famoso carattere dell'interdisci dell'energia di cui parlavo, a seconda di quella che sia il settore della green economia a cui ci si rivolge, si va ad indirezzarsi verso un certo tipo di normativa e verso un certo tipo di finanziamento. Quindi, l'energia. L'energia, tutti voi negli ultimi anni, avete sicuramente visto quello che è stato restremmo proliferare gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici diminuorici. Questo è proprio perché? Perché appunto nell'ambito del leader, il programma comunitario che parlavo prima, era previsto che ci fossero degli incendi. Questi incendi a cascata sono stati utilizzati dai governi che sono succeduti, quindi poi il GSE ha consentito che venisse pagata l'energia a chi impiantava un impianto, che fosse un impianto di natura fotovoltaica, un impianto di natura eolica, un impianto di eolico, un impianto di energia alternativa. E quindi questo proliferare, quello è un classico esempio di come, partendo da una buona intenzione, spesso non si fa un grande favore all'ambiente, nel senso che il fotovoltaico era una grande opportunità per il territorio, io penso che lo sia ancora, troppo spesso purtroppo è stato utilizzato con delle peculiarità da fondente del quartierino, nel senso che, mentre la legge in cui è stata, per esempio, l'altissima dal punto di vista del fotovoltaico, si prevedeva che fino a domenica tranquillamente si poteva andare a impiantare l'impianto fotovoltaico, senza particolari problemi, senza valutazione di impianto ambientale, andava in dichiarazione di inizio della vita. poi si, poi, a cui ho portato, che qualcuno fu detto, se faceva uno a fianco all'altro, lo presentava 4D e diceva, ok, non c'è bisogno di una valutazione di impianto ambientale, l'impianto non era di un megawatt, invece di 4 megawatt. Poi arrivava la registratura, ma questa è un'altra storia. Per dire che l'industria ambientale è sicuramente un'opportunità, però, a mio avviso, deve essere un'opportunità a prescindere dal discorso del finanziamento. Il finanziamento è sicuramente un grande aiuto che può riuscire a dare ossigeno nella base iniziale in un momento in cui qualche innovatore va ad investire in un settore laddove gli altri ancora non ci sono. Però, se questo tipo di ossigeno poi diventa l'esclusiva mission di chi fa questo tipo di impresa, naturalmente i risultati non sono così. Questo non significa che il fotovoltaico non sia una cosa positiva, semplicemente va rivista la materia dal punto di vista della normazione e va rivista, naturalmente, quella che è la mission a cui affidarsi. E quindi il taglio degli incentivi... Un po' tardi. Un po' tardi. Questo non dipende da noi. E quindi il taglio degli incentivi in questa materia con il conto energia, per esempio, o con le altre forme di agevolazione, non è detto che sia una cosa negativa. Per esempio può spingere molti di noi a utilizzare di più il fotovoltaico non a fini speculativi e quindi, andando su quei venti enteri dove avremmo fatto un mega a impiantare del silicio, quando evidenti problematiche dal punto di vista pesagistico, se vuoi nella stessa zona magari andremo a impiantare e passeggiare i percorsi nuovo astronomici, magari utilizzando dei programmi europei, è evidente a tutti che ciò non va nella direzione e del rispetto ambientale, ma anche di un accurato utilizzo delle risorse. Perché tra le mesagne c'è una masseria bellissima, finanziata la masseria, finanziato il percorso rurale, e naturalmente i soldi che sono stati spesi non vanno a portare un beneficio al territorio. Ma oltre a quello c'è anche il discorso invece dell'eolico, che sia un discorso eolico in generale di grandi giganti, che da un punto di vista visivo magari anche meno impatto, per cui funzionano in parte le stesse tariffe incentivanti dell'eolico, del fotovoltaico. Ma poi c'è anche un discorso che sempre di più avrà un impatto sul territorio che è quello del mini-eolico o addirittura del mitroeolico. L'alboche sono sostanzialmente delle palle più piccole, che usufruiscono dello stesso tipo gli incentivi del fotovoltaico, ma che invece di utilizzare l'energia del sole utilizzano in maniera abbastanza efficace l'energia del vento e che, devo dire, ormai diversi tecnici del paese cistici tendono a privilegiare rispetto all'impatto dal punto di vista ambientale visivo del fotovoltaico. Quello è un altro esempio di un business che andrà nei prossimi anni ad essere sempre di più incrementato. Io venivo in contatto un mese fa con un'azienda, Bonsano, che praticamente produce un fotovoltaico che è una pellicola, sostanzialmente. E' una cosa straordinaria in base alla quale si mette questa pellicola sui drastici solari e si trasforma la luce del sole in energia. Ora, è evidente che con l'incremento della tecnologia se porterà un vantaggio di natura economica per scendere dall'incentivo ci sarà una grande diffusione di questo tipo di tecnologia. Quindi, l'energia è un classico esempio di come con l'incendicazione si può fare del bene ma si può fare anche del male al territorio. Dimmi. Le olio sono più o meno in paesi con l'inocchio? Non è detto. Non vuoi dire che la tensione è più profonda? Non è detto. Io sto seguendo una società che ha 100 siti mini oligi approvati e almeno il 70% non sono in zona delle nostre. No, assolutamente. Perché io mi ricordo che forse è uno dei primi in Puglia e nel supermerito da... Si, però nel frattempo è cambiato il mondo, nel senso che sono cambiate le palle. E quindi la tecnologia, non so se vuoi montate male... Quando negavi era ancora insomma... Ma si parlava di dare il Puglia e il Puglia. Cioè, mostruore. Per quale azienda lavorate? Vestas. Ah, addirittura. Quindi provavo con l'azienda Nitter... No, per quanto? Per quanto? Per 2000 no. Come richiamate? E nel costo è servito. Però, diciamo, sull'esempio della Vestas... O comunque... Prima ridosso della Vestas... L'Avestas è l'azienda Nitter nel mondo... Tra le aziende Nitter nel mondo ad occuparsi di... Eonico o di energia rinnovabili in genere. Sono nate tante piccole aziende sul territorio, magari... Voi non conosco, però... Siete uno di questi esempi. Ma tanti altri. Io sono venuto in contatto la settimana scorsa con un'azienda di Massara... Che si chiama... Questa azienda si occupa di fabbricazione stoma. Si occupa di fabbricazione di palle eoliche. Per dire... Ed è nata proprio dall'esperienza della Vestas... Di gente che aveva lavorato in Vestas. Ed è un'azienda che da lavoro a diverse decine di operai. Ma soprattutto una grande opportunità da questo territorio. Perché... L'eolico... Poi comporta naturalmente la manutenzione. Non solo l'installazione. Quindi... Ecco... Un classico... Un classico esempio di... Impresa... Legata al settore verde. Che... Può portare... A dei risultati di natura... Di natura positiva per il territorio. Quindi... L'energia. Eolico. Fotovoltaico. Con... Tutte le agevolazioni. Io... Magari tra due c'è qualcuno... Che in maniera dettagliata... È addentrato nel settore delle agevolazioni. Io... Preferisco non entrarci. Non... Per qualche cosa. Perché... Entriamo in un settore che è molto specifico. E che... Non ha senso affrontare in questo... Momento. Nel senso che... Le deriffe incentivanti sono state... Un'opportunità... Per... L'ionico. Si distingueva... A seconda che... La deriffe... Eh... Fosse... Fissa... Oppure... Relativo allo scambio sul cuo... Sostanzialmente... Ti pagavano... L'energia che tu... Non... Andavi a... Consumare. Ciò... Ha funzionato sia per l'ionico... Sia per il fotovoltaico... Che in parte... Per... Il... Il mini eolico... Eh... Però... Entriamo in un ambito... Specifico... Per cui... Non... Avrebbe senso... Andare ad annoiarvi con delle cifre precise... Però... La cosa importante... E... Che deve rimanere che... L'eolico... Il fotovoltaico... Io dico... Il buon eolico... Il buon... Eh... Fotovoltaico... Possono essere... Una delle opportunità... Nell'ambito... Appunto... Di quella... Che è la... Econi... Eh... Così come... Il discorso dei rifiuti... Il discorso del riciclo... Troppo spesso... Il settore dei rifiuti... O il riciclo dei rifiuti... Eh... È stato... Un settore... Eh... Quanto di più lontano possibile... Eh... Eh... Dalle... Eh... Buone esperienze di pratica... Ambientale... Questo perché... Purtroppo... Tutti noi... Eh... Giornali sappiamo... Eh... Quelle che sono state le politiche perpetrate... Di abusi perpetrati... Nel territorio... Soprattutto in certe regioni... Più ad alto tasso di criminalità... Come... Eh... La Campania... O come la Calabria... Molti siti... Sono stati... Irrovinati... Eh... Per... Eh... Non ci vorrei... Non passeranno forse... Nemmeno i mille anni... Per recuperare... Quel tipo di... Eh... O proprio che è stato combinato... Scentemente... O... No... Però... Ormai... Quello che è stato fatto... Noi... Dobbiamo... Guardare al futuro... E... Pensare... Al ciclo... De rifiuti... Come... Un'opportunità... Di lavoro... Anche lì... Eh... In ambito ambientale... In ambito... Eh... La famosa... In economia... Sempre la famosa interdisciplinarità... Di cui... Eh... In ambito dei rifiuti... Parlare di... Eh... Ricicolo... Per esempio... Vuol dire... Parlare di tutto... Del contrario di tutto... Eh... Vuol dire... Occuparsi specificamente... Del... Del ricicolo del vetro... Per dire... Eh... Per cui... Molte imprese... Soprattutto nel Veneto... Sono specializzate... Oppure... Esclusivamente... Eh... La parte organica... Del... Eh... Recipro... Eh... Utilizzando i sistemi di compostato... Cioè... È... Un mondo... Completamente distinto... Per cui... Nel momento in cui... Ci si vuole... Eh... Cimentare... Si possono ottenere... Anche dei... Ottimi risultati... Se... Si individuano delle nicchie... Di... Settori... In cui andare ad operare... Nessuno di voi domani mattina... Sarà in grado... Di organizzare... Un'azienda... Tutto l'ondo... Di ricicolo... Di andare ad organizzare... Un'azienda di rifiuti... Dalla... All'azienda... Eh... Perché comporta... Degli investimenti... Talmente... Eh... Grandi... Che se non stai già sul mercato... È molto difficile entrarci... Però... Io... So... Di molte aziende... Che... Eh... Piccoline... Si sono cimentate... Con questo tipo di tematiche... E hanno ottenuto... Anche dei... Grandissimi... Eh... Così... Come nell'ambito del... Eh... Piovolgico... Nell'ambito del frutto... Che sono... Intersecati... Ecco... Perché all'inizio... Dicevo che... Il settore alimentare... Non è... Per materia... Eh... Aggregabile... E anche dal punto di vista finanziario... Aggregabile... Il settore per oggi... Il settore del frutto... Spesso... Rientra tra i finanziamenti... Che non... Non sono di natura... Strettamente ambientale... Ma sono quelli che riguardano... L'agricoltura... Per esempio... Per cui... Funziona... Lo stesso tipo di... Eh... Cascata... Che parte... Da Proxella... Per arrivare a Roma... Per arrivare a Pari... E gli altri capologhi... Eh... Di... Regione... Per esempio... Negli ultimi anni... Ciò che è stato compiuto da... Slow Food... Eh... Che non so... Se molti di voi... Eh... Conoccono... È un'associazione... Che è stata fondata... Proprio... Per... Andare a... Eh... Esaltare... Quelle che sono... Le peculiarità... Le caratteristiche... Eh... Dei nostri prodotti... Di alimentari... Eh... Ha avuto... Dei gravissimi risultati... Da Slow Food... È nata... Tutta una cultura... In ambito... Alimentare... Legati al consumo... Di prodotti locali... E anche al consumo... Di prodotti... A chilometri zero... Da lì sono nate... Delle imprese... Che sono legate... Comunque... A quel mondo... Però... Sono legate... In una maniera... Completamente diversa... Di concepire... Il modo... E l'attività... Di fare impresa... Classico... Che poi... Comunque... Oggi... È anche... Un... Trebunion... Per tutte le attività economiche... Che si vanno a fare... Nel senso che... Oggi... Chiunque... Si... Va ad accidentare... Un'attività di impresa... Deve pensare... In maniera... Completamente diversa... Rispetto a come si faceva... 20 anni fa... 20 anni fa... Ma... Per un motivo molto semplice... 20 anni fa... In un paese... C'era... Una sola persona... Che faceva l'assicuratore... Se tu volete assicurarti... La macchina... Dovevi andare per forza... Da quella persona... Oggi... Tu vai su internet... In un paese... In un comune... Che fanno l'assicuratore... Quindi... Tu ti devi distinguere... In questo tipo di distinzione... Divente essenziale... Andare a caratterizzarsi... Da... Anche da un punto di vista... Ambientale... Laddove... Io intendo ambientale... In senso più largo possibile... E quindi più legato... A quelle che sono le caratteristiche... Del... Territorio... E quindi... Ecosostenibile... Ma... Anche... Ecosostenibile... Per convenienza personale... Perché magari... La materia prima... La trovo sul territorio... O perché magari... Riesco a caratterizzare... Il mio prodotto... In una ricchia di mercato... Per cui... E' più facile andare a venderla... Oggi... Io... Ho seguito... Per esempio... Ho fatto nascere... Un'attività di vendita... Di prodotti biologici... A Fasano... E... Questa attività... Lavora a morire... Lavora a morire... Prima con... Le... Con le cinque stelle lusso... E quindi... Con quel tipo di turismo... Hanno implementato... Dei corner... All'interno di cinque stelle lusso... Di Fasano... Ma... Poi... Piano piano... E' cresciuta anche sul territorio... Perché? Perché... Quelli hanno abbracciato... Un bisogno... Che è un discorso... Un bisogno... Di ecosostenibilità... Nella maniera più larga... Possibile... Del... Della mobilità... Abbiamo già parlato... Quindi... Del car sharing... Del... Anche del car... Cooling... Quindi... Diciamo... Che... Green... Economy... Lo ripeterò fino alla moglie... Però voglio che questa sia... La concezione essenziale... Che vi rimanga... E quanto... Di più... Largo... E interdisciplinare... Possibile... Come settore... E dal punto di vista... Di finanziamenti... Come vi ho detto... Nell'ambito della proclamazione... Comunitaria... E poi a cascata... Nell'ambito della programmazione nazionale... Trammi il Ministero dell'Ambiente... Nell'ambito della programmazione... Regionale... Vado ad affacciarsi... Con diversi settori... Che sono... L'energia... I rifiuti... La... Food... La mobilità... Quindi... Quando parliamo... Di tutte queste cose... Per poter accedere... A un bando... Bisogna... Verificare... Se... Eh... A... Tentare di accedere al bando... È... Un ente pubblico... O un'impresa privata... Se è un ente pubblico... Ci sono determinati requisiti... Che vengono richiesti... E... Sempre di più... Ormai si va... Eh... In... Nell'ambito di una... Euro-progettazione... Per area vasta... Cioè... Non è più il singolo comune... Che va a... Progettare... La vista ciclabile... Non sono più comuni... Che si vanno a mettere insieme... Perché altrimenti... Non c'è la primarità... Per andare a sostituire... Della geolazione... E... Se si è... Azienda... Quell'azienda... Se piccolina... Può essere che si vada... Interfacciare... In un ambito regionale... In uno dei tanti... Che è a cascata... Per esempio... In una regione... Oppure... Se si tratta di un progetto... Più complesso... Più particolare... Può rientrare... Nell'ambito... Di alcuni strumenti... Di sommezione diretta... Che sono... Questi direttamente... Dalla... Banca europea... Per gli investimenti... O... Dalla Commissione europea... Ok? Spero di... Essere stati... E' chiaro... Io... Ripeto... Mi rendo conto che... La materia... E' estremamente vasta... E' estremamente complessa... Però... E' una materia che... Sicuramente... Poi legamente... Ve lo potete insegnare... Incide sulla vita... Di tutti noi... Ogni giorno... Quindi... Anche... Il... Discorso... Della normazione... Comunitaria... E' impostato... In quella maniera... Nel senso... Con un carattere... Interdisciplinarietà... E... Con... Dei panni... Notevoli specificità... Per cui... Però... Per poterli accedere... Servono determinati... Requisiti... Ok? Vi ringrazio... Io... Vorrei... Vorrei... Che... 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 fare una struttura fisica che recibe l'elastica ma vorrei mettermi in contatto con chi già gestisce questo, il riciclamento dell'elastica e portare io magari facendo per esempio dei cani dei pezzi di trasporto, avendo dei contatti con chi la va a recuperare portare io questo eh? sì, qualcosa di quel genere portare io questo già si fai da padroncino, sei in questi trasporti e si è scuso e quindi sono quello che volevo io per esempio mi muovo non più sul finanziamento green ma voi fare il finanziamento esclusivamente con i mezzi elettrici perché voi sarebbe allora, il discorso è questo ecco perché dicevo è quanto più ampio possibile dipende nel senso che quel tipo di esperienza lavorativa che tu puoi fare in che cosa consiste? consiste esclusivamente nel trasporto o consiste nel trasporto e lo stoccaggio? lo stoccaggio che tu vai a realizzare ha bisogno di che cosa? ha bisogno di strutture di attrezzature particolari per il riciclo o ha bisogno esclusivamente di location o lo stoccaggio che però devono avere determinati requisiti dal punto di vista ambientale perché poi ciò che andiamo a stoccare non deve andare in qualche maniera ad incidere negativamente sulle faglie di ferro sul terreno parliamo di una materia che è molto vasta se è trasporto per il trasporto non si va nell'ambito dei finanziamenti di natura ambientale ma ci si rivolge a delle attività dei finanziamenti specifici per il settore del trasporto che vanno ad un ambito di altri programmi comunitari e che a cascata vanno o in altri o in altri porno a meno che in voi non c'è il meccanismo che prende le cose la stessa il cambio elettrico però tutto questo però il problema qual è? che per poter prendere il cambio elettrico tu dovresti essere un'impresa che già opera nel settore che è quel tipo di specificità e andare ad accedere ad un meccanismo anche volativo che è a bando e quindi nel momento in cui esce il bando e tu sei un'azienda che ha già quello che hai requisito puoi avere accesso al discorso del cambio elettrico e quindi usufruire di riflesso del discorso dell'agevolazione in ambito ambientale a prescindere da quello dovresti utilizzare delle agevolazioni che riguardano il settore degli autotrasporti che in questo momento è il settore assolutamente più precipitato che ci possa essere che ci possa essere io sto seguendo un consorzio a Ostuni che praticamente prima raccoglieva un centinaio di autotrasportatori in tutta la zona nord del paese e sono rimasti sostanzialmente in 30 perché purtroppo la crisi economica ha ridotto ovviamente i margini di guadagli del settore e una legislazione eccessivamente oppressiva li ha fatto crescere da poco non riescono a costare sul mercato e quindi bisogna rendersi e magari questa può essere un po' l'unità perfetto questo è proprio per andare a vedere che a secondo delle spaccettature diverse che un progetto può avere si può rientrare o meno in delle linee di alcuni o di altri settori per cui lo stesso tipo di progetto con una spaccettatura un po' diversa può rientrare in un progetto quindi non può essere soggetto a un altro obbligo prego avevo solo da chiedere che c'è prima avevate detto che c'era un sito su internet si no ci sono diversi siti diversi su internet dipende da ciò di cui parliamo uno dei tribuni di quelli più utilizzati in rete green economy è green bits green bits buono non mi ricordo preciso come se i tribuni è un di quelli più utilizzati nell'ambito della green economy anzi è proprio un sito che va a specificare quelle che sono le priorità della green a un'impostazione quanto a vizzi molto simile a quella che ho dato io nel senso che parla di opportunità di natura economica specificando che la green economy si sottivide in diversi settori e per ogni settore loro vanno a prendere quelle che sono le opportunità o quelli che sono i leader di quel settore a portare determinate esperienze quindi una può essere quella ma ce ne sono diverse altre invece per ciò che riguarda le opportunità dell'Unione Europea sicuramente Europa.eu è quello più utilizzato però secondo me è anche eccessivamente specialistico nel senso che è più adatto a già addetti ai lavori anche perché poi il problema non è che già gli adotti ai lavori spesso si perde se non ha l'esperienza specifica in queste tematiche però per come è frastagliata la materia ambientale di per sé molto frastagliata perché è stata strutturata in anni per gradi a mano a mano che la scienza diventata anche grazie all'ambiente cresceva ma è diventata una materia estremamente composita proprio perché qui sono in fluide con fluide esperienze diversi altri settori quindi nel momento in cui si entra in un ambito ambientale si entra in un ambito produttivo e via diciamo ci sono altre domande se qualcuno ha qualche cosa più di particolare a chiedere anche noi ringraziamo ringraziamo e smegliamo questa che è così prego vorrei chiedere c'è una forma di assistenza alla comunicazione della ricorda di influenziata puoi entrare in qualche parte cioè per esempio assistere alla comunicazione tra cittadini ditte incaricate e in questo momento non so dire che non ci sia niente che sia adatto magari nello specifico ti faccio una ricerca specifica e ti faccio sapere però in passato sicuramente trovo trovo sì no perdoniamo in questo momento ad occhio di comunicazione in ambito ambientale così specifica mi pare che non ci sia niente dovrei verificarlo perché poi si tratta la materia che è molto male però in passato sicuramente ci sono state opportunità dal punto di vista dei finanziamenti per la comunicazione in questo ambito ci sono stati sia dei bandi ad hoc del ministero dell'ambiente che erano in parte indirizzati ai comuni e in parte indirizzati delle società di comunicazione specifiche tra l'altro nel settore io ho seguito con Telerama tre anni fa un progetto tre o quattro anni fa mi sa come sono passati un progetto proprio specifico per un band che era un band del ministero dell'ambiente quindi normalmente si tratta di bandi che mette il ministero in questo momento se non ricordo mai non ce ne dovrebbero essere presenti però magari mi lascia la mail se dovesse essere ci faccio una ricerca più specifica le faccio sapere va bene? sì grazie posso e allora volevo chiedere se per esempio uno dovrebbe mettere per centinare il prossimo prodotti locali quindi il senso ad utilizzare anche i metodi di trasporto eccetera eccetera però andre in zero io andre in zero sì è un discorso questo è un discorso ecco il discorso che facevo all'inizio anche a costo di sembrare noioso vedete che ora sta uscendo fuori proprio quello che quando abbiamo iniziato stavo provando a farvi capire nel senso che l'interdisciplina di età è il fatto che provo alle sue caratteristiche il settore ambientale o legato a questi ambiti non sempre riga in ambito di finanziamenti che siano specificamente ambientali questo è un altro esempio di un settore che è più commerciale ed agricolo e quindi normalmente per ciò che riguarda il fenomeno zero è un'attività che è incentivata sulla base di bandi del PSR sono i piatti di sviluppo rurale che però per poterli accedere bisogna essere gli app sarebbe il prevedore di agricolo di agricolo principale quindi non vi accede chiunque se vi accede un terzo qualunque è un commerciante a tutti gli effetti quindi non è più gli app non è più un prevedore agricolo al titolo principale ma è diventato un commerciante a tutti gli effetti e quindi l'unica cosa che potrebbe fare è accedere ai finanziamenti che riguardano il commercio che nell'ambito piccolo sostanzialmente sono stati quasi eliminati il governo Monti ha bloccato anche il prestito d'onore che era lo strumento incentivante per il piccolo commercio più utilizzato speriamo che ora da quello che mezzaniscono a Roma in questi giorni dovrebbero riprimare il fondo e far ripartire questo strumento e per quel tipo di strumento magari ci sono anche ci sono stati in passato dei bandi di natura regionale che prevedevano delle premialità per chi andava a lavorare in quei particolari settori commercianti altra se io avrei un progetto di biomassa funziona a città di scatti di univo e del cinto può essere finanziato per quello c'è un mando specifico che viene testito dalla limitanza è il mando delle biomassa che poi è scaduto che dovrebbe essere rivitato e che dovrebbe tra l'altro essere rifinanziato il problema delle biomassa qual è? io parliamo di 200 euro ah piccolino 200 euro giusto piccolino un po' di investimento diciamo si ti dico il problema in questo ambito è uguale le biomassa secondo me sono state sotto certo di vista un'opportunità versa nel senso che purtroppo sono state utilizzate male sono state utilizzate male gli incentivi e spesso si sono utilizzati altri incentivi per fare del biomassa io ho seguito insieme ad una società di Roma come sono stati 5 anni un nonsozio che si chiamava Antichi Sapori la BAT barbettando le atrani questo era un consorzio molto carino un progetto che mi è molto divertito perché era un consorzio che si occupava di valorizzare i prodotti locali per poi esportarli all'estero e quindi ciò ha funzionato fino ad un certo punto nel senso che abbiamo avuto il finanziamento nell'atto di un contratto d'area perché in quel periodo c'era in quel territorio una parlamentarica molto influente a Roma tecnicamente avevano fatto tutto come si deve il governo è riuscito a fare il finanziamento al territorio che cosa è accaduto? che nell'ambito di questa filiera produttiva che era legata anche al settore ambientale quindi di valorizzazione dei prodotti del territorio quindi si prevedeva la raccolta dell'oliva al frantoio alla forma che utilizzava quelli di prodotti c'è tutta la filiera produttiva finita molti si sono fatti i frantoio a farsi ricentrare la biomassa in particolare non parlo ma il nome uno di Fasano no dico solo di Fasano perché non voglio fare no 6 di Enzo 4 per dirti purtroppo quello è stato un classico esempio di come un'opportunità di natura legislativa o di natura agevolativa comunitaria e nazionale poi viene gestita in maniera negativa sulla base di quell'esperienza l'input che ho portato all'assessorato regionale al ministro dell'ambiente fu questo qua è un'inchiesta penale insomma è un discorso di stimare però l'idea quale fu che poi ci hanno un po' fregato a Roma perché la mia intenzione prima che ci fosse un cambio di colore in regione purtroppo spesso accade non dovrebbe accadere in Gheri nel momento in cui un'ambistrazione cambia di colore che sia comunale provinciale regionale tutti i progetti precedenti vengono tutti a capare si ripresenta si riparte sempre da zero questo è un problema poi diventamente da come ognuno di noi ha pensi politicamente non voglio assolutamente parlare di politica però oggettivamente è così nel senso che non c'è quella coscienza civile nel nostro territorio che ci porta a prendere ciò che di buono è stato fatto per noi in quel particolare ambito accade che noi consigliamo di farvi a fare gli specifici per le biomasse che poi sono state gestite da Roma in Italia che si dico in Italia e che l'ultimo è stato fatto in marzo dell'anno scorso in questo momento il panno se non sbaglio è chiuso però anche questa è una cosa che ti posso far sapere se è possibile la rinnovazione va bene bravo e di rinnovazione di questi centri se ti passa un progetto dipende da tutti ti direi una criminalità nel senso che più o meno no non c'è più o meno nel senso che dipende ora se c'è proprio il solito carattere interdisciplinare dipende dal settore dipende dallo strumento dipende se si tratta dell'aggevolazione comunitaria se si tratta dell'aggevolazione nazionale dell'aggevolazione regionale di un mondo interesse per cui magari più veloce nessuno ti potrà mai dare una risposta del genere è una dipende dipende di progetto allora se è la più massa io ti dico nell'arco di un anno il solito si riesce a chiudere la cosa se si tratta di un progetto di natura commerciale nell'arco di 6 mesi ci sono risorti se riesce a chiudere dipende non sempre così però dipende dal settore più che altro le centrali più masse per esempio sono un settore in cui naturalmente c'è una innovativa ambientale molto specifica quindi servono tutta una serie di autorizzazioni quindi materialmente dal momento in cui tu fai il business strength al momento in cui arrivi al compimento già di natura con i soldi tuoi passano almeno un paio di anni o c'è cose con il finanziamento agevolato non si spera di non rilogare colpa di un anno o di non allontanarsi tanto da mezzo massimo per le altre cose se ne vengono perfetto io ringrazierei Massimiliano che è stato so gentile a darci queste comunque si rinaccava la mia roba qui sul luogo a parte che c'era l'afredo prima ma poi c'era scritto le sei in mio intervento quindi io ho lasciato ti esisti in facoltà per rinaccare quando mi ha chiamato come lo hai chiamato come lo hai chiamato infatti non lo pensiamo nel momento in cui ci mancava manco se vogliamo contattarla suppone effettualmente mi lascio con i regali ci sentiamo i giorni dobbiamo chiedere al signor se è il problema il resto ringraziamo il consigliato della sua prescrizione della sua prescrizione restando in ambito sempre finanziamenti all'impresa vorrei scomodare il nostro caro Cristiano a nome del Gualda in modo che ci racconti noi Massimiliano ci spiegava come era possibile esserci due tipi di finanziamenti quindi completamente il brilla e i finanziamenti diciamo normale adesso Cristiano ci parla di finanziamenti nostri vicini a noi che vanno bene per qualsiasi tipo di attività e che vanno sicuramente bene anche per lavorare con i miei domani ciò vuol dire Cristiano posso stare a dire anche perché mi voglio togliere da a dire perché ormai sono due ore e con quello a dire è dura buonasera a tutti io mi presento sono Cristiano Legittimo e sono il responsabile della comunicazione per l'animazione del Catera dei Missati probabilmente qualcuno conosce già questo ente altri mi hanno sentito parlare probabilmente qualcuno ancora non ci conosce perché come sapete non abbiamo una finalità di lucro anche se la nostra ragione sociale è un SRL ma siamo partecipati sia da organismi pubblici che da piccole aziende private le aziende agricole che comunque rappresentano il nostro territorio e non solo cooperative cantini o elettrici abbiamo un abbattamento molto vasto io innanzitutto volevo ringraziare il lavoratore del basso per questa opportunità che sta andando a tutto il territorio e in realtà specie al ricambiente che prontamente si è candidata a questo bando e che oggi come nelle prossime tre giornate ci permetterà di avere vicino qualche caso parco di studio ma anche per approfondire delle tematiche che al momento anche se il tema è molto inflazionato si conoscono molto poco di Green Economist si parla veramente accusando molto spesso di questo termine ma purtroppo i riscontri pratici sul nostro territorio come diceva prima il dottore non si vedono perché l'esempio più lampante è quello che non abbiamo una filiera del riciclo a 360 grani noi conferiamo io da privato cittadino conferisco la mia porta differenziata ma come l'energia fotovoltaica non so doveva finire anche la mia spazzatura non so doveva finire sarebbe bello e probabilmente anche noi come GAR sarei i primi acquirenti di prodotti riciclati a cominciare anche dalla carta partiamo proprio dalla stupidaggine della cosa più basilare per non parlare anche dall'approccio di una economia alternativa che potrebbe essere lanciata se ci fosse un cerchio chiuso cioè quindi qualche azienda che in qualche modo riuscisse a fare un altro prodotto da prodotti riciclati un prodotto utilizzabile o almeno una materia prima da lavorare successivamente noi però come GAL ci allontaniamo un attimino dal mondo della grande azienda e ci avviciniamo al settore della micro imprenditorialità anche come in Italia fino ad ora ha fatto ma che purtroppo come ad aprile avete saputo un po' tutti ha chiuso i binetti anche se tutti ci auguriamo che possa essere refinanziata a momento il GAL ha all'attivo sei bandi alcuni dei quali sono esclusivamente per imprese artigiane e noi diciamo entriamo a piedi pari in questo tema per le economie perché vorremmo che anche l'attigianato che un giorno una volta significava anche riutilizzo di una cosa rovinata rotta usurata recuperata grazie al lavoro di sapenti artigiani al momento non esiste il riferimento al discorso dei prodotti locali di GAL per esempio mi pare ci sia stato un bando che era specifico per la vendita dei prodotti agricoli tecnologici o comunque locali qualche tempo fa tre anni fa almeno nella vendita programmazione probabilmente però era il PSL non il PSL è quello del discorso entripece in ambito locale era il regalo di quello artigianato che fa il salato di GAL eh sì puntualizzo proprio perché l'artigianato però non era quello che molto spesso si intende da noi quindi alla sformazione di prodotti agricoli perché il GAL va ad agire su un territorio locale sì che nella quantispecie la territoria di Brindisi è un territorio agricolo la Piana Medesina per vocazione di agricoltori agricoli e anche pescatori io vengo da Brindisi quindi so che cosa significa purtroppo c'è un allegato un allegato che convincola tutti i banni del GAL per le messabili a cominciare dalle aziende agricole che hanno dei banni destinati proprio a loro e a finire agli artigiani che non permette il finanziamento del dei confetti prodotti agricoli a cominciare dai seminativi a finire addirittura anche alla canapa o a fibretessi particolari questo perché dicevo perché il GAL si occupa del territorio rurale e per rurale non intendiamo solo agricolo perché il territorio agricolo è il territorio che tutti sappiamo legato alla vita della campagna e dell'archivoltura per quanto riguarda invece il mondo rurale noi agiamo 460 gradi su quei territori che la zonizzazione nazionale chiama di fascia con difficoltà di sviluppo e in questo caso in questo senso entriamo anche nei centri storici quindi i nostri interventi sono ampi a finanziare anche degli artigiani che lavorano le tradizionali materie prime che si trovano per tradizione sul territorio a cominciare dal legno dalla pietra dalla gilla dal materiale dal materiale per rosa ecco in questo caso agiamo come interventi sull'artigianato sia sulla produzione che sulla commercializzazione oltre a questo non agendo solo sul territorio agricolo ci sono dei finanziamenti pensati a migliorare la qualità della vita nei territori urbani diciamo in qualche modo anche le zone urbane sempre riprite alle aree locali come i servizi all'operazione locale per creare ad esempio servizi di assistenza all'infanzia agli anziani servizi di applicazione sociale come ludoteche piuttosto che servizi di tempo libero luoghi per creare dei corsi di formazione artigianali piuttosto che imparare ad utilizzare anche nuove tecniche legate all'informazione quindi all'agricoltura sapere utilizzare degli strumenti tecnologici che oggigiorno fanno parte della nostra vita ma che presi di coscienza da parte del riprendimento agricoli probabilmente riuscirebbero anche a dare degli strumenti diversi a quelle realtà che per vocazione hanno un'età media oltre over 60 in qualche modo comunque riprendo il discorso il GAL è un organismo che oltre a emanare bandi e essersi candidato nel 2009 per gestire una piccola la fede del PSR che è il programma di sviluppo rurale della regione in Puglia con il suo piano di sviluppo locale PSL sono degli acronomi molto vicini ma il secondo dettaglio del primo con il nostro PSL abbiamo scritto ed è pubblicato online sul nostro sito terra dei messavi come il GAL del terra dei messavi intende gestire l'offerta turistica del territorio terra dei messavi qual è il territorio del terra dei messavi anche se abbiamo una sede a mesagne noi abbiamo come territorio di riferimento otto comuni che vanno da Tocchiacop fino a Francavilla e nella specificità sono San Pietro Gellino sono Marco Dandone c'è San Pancrazio e San Gialadiano anche lì quindi abbiamo un territorio abbastanza vasto perché già nello studio del territorio non so se qualcuno di voi si è avvicinato allo studio del territorio o ha a che fare con il studio del territorio il territorio è una composizione innumerevole di variabili che cambiano giorno dopo giorno e anche se lo sforzo nostro è quello di analizzarle nella totalità non riusciremo mai a comprenderne il verso 260 gradi in maniera molto chiara i GAL adesso passano a una fase strategica in cui abbiamo fatto animazione comunicazione informazione sui bandi e su quelli che erano le possibilità per le imprese agricole per le imprese artigiane per le attività di ricettività minore con le fitte camere un band ha destinato anche l'avventura di nuovi affitti a camere poi il finanziamento di no per il breakfast no perché per il breakfast sono una tipologia di ricettività minore che si può condurre anche in forma privata mentre noi finanziamo le imprese quindi a meno che il breakfast non si volesse costituire in forma societaria allora diciamo in qualche modo il bando era espressamente per affitti a camere con case vacanze dicevo quindi dopo una certa dispensa di risorse e energia per informare il territorio delle potenzialità che c'erano e che ci sono ancora e se volete dare un'occhiata su tutti i bandi che ci sono sul terra che sta il punto it vi è aggiornato un po' di chiaramente speriamo di avermi uscito più aggiornato a breve stiamo passando a una fase pregiva come? adesso abbiamo in cantiere circa 70 interventi tra agricolismi masserie didattiche fattorie sociali affitta camere artigiani vari che hanno fatto richieste che sono in fase di produzione verso i responsabili di visuale del GAL e anche altre tipologie di restauro e conservazione di monumenti e immobili storici o di pregio culturale artistico in qualche modo adesso stiamo aspettando che questi cantieri si chiudano per tracciare il nostro itinerario i nostri itinerari e mi collego al discorso che si faceva prima se ci sono dei finanziamenti mirati a costruire dei itinerari però abbiamo una difficoltà in mane a capire quali sono gli itinerari migliori senza passare da quei diciamo non so come definirli da quelle distese infinite di impianti fotovoltaici appunto mi sono collegato proprio dal suo discorso noi facciamo fatica a creare delle linee insomma delle traiettorie che possano collegare diversi comuni perché ormai tutte le vie principali che collegano mesagne ai comuni di Mitrofi saranno forse la Tiano hanno dei campi immensi di fotovoltaico e siamo cercando di risolvere questo problema andando a con la bicicletta sì no veramente andremo con la bicicletta e cercheremo di fare diciamo gli itinerari migliori anche perché poi come dire il governo non si è preoccupato neanche di attenzionare le aziende beneficiare questi finanziamenti affinché si preoccupassero almeno di curare la parte esterna non dico la cosa migliore sarebbe stata magari installazione su delle sepre come avvenuto altrimenti però comunque semplice ma almeno delle sievi o un'attenzione verso il passaggio di un eventuale rischio non c'è stata assolutamente e che adesso ci dobbiamo fare a pugni con questa realtà che ogni giorno è un pugno nell'occhio personalmente la giudico così poi è normale che è stata sicuramente un'opportunità per il territorio probabilmente se ne è abusato se ne è abusato e probabilmente anche nella nostra zona nel particolare ci sono state eccessive concessioni di questa tipologia perché adesso ce l'abbiamo andiamo avanti non voglio fare assolutamente un processo alle intenzioni perché sicuramente ognuno ha le proprie idee ed è giusto che le mantenga ora io vorrei sfruttare innanzitutto questa occasione per far conoscere il Gallo perché ringraziamo l'ambiente che ci ha dato questa opportunità di essere qui in questa tematica che poi ci vede particolarmente coinvolti vorrei sapere anche da parte vostra in merito a non lo so tutto un'attività che ci potrebbe essere sulla green economy cosa vi pensate e che cosa si potrebbe anche fare in futuro perché perché il Gallo come altri organismi sul territorio ha la potenzialità per sensibilizzare per creare relazioni di sensibilizzazione verso argomenti particolari ne cito uno per chi è magari nel campo della biomassa e dell'energia fotovoltaica non per concentrare sempre le azioni sullo stesso tema però qualche giorno fa venne a parlarmi di un di un progetto un ragazzo un ragazzo che ho conosciuto da poco che sta cercando un'azienda finanziatrice un'azienda mecenale che possa perseguire questa questa tipologia di di intervento vi spiego che cos'è le centrali a biomassa sono di diverse tipologie una di queste che ho provato a documentarmi ma vorrei sapere qualcosa di più e spero di poter chiamare qualche esperto anche di conseguenza a questo bellissimo scenario per proseguire una tematica in linea con quello che è lanciato da domenico il mondo e tutto il circolo e l'ambiente mesagne sulla pirulisi che cos'è la pirulisi la pirulisi da quello che ho capito perché effettivamente è un discorso innovativo nuovo non è di facile riferimento anche le informazioni ma ci promettiamo di approfondirlo insieme a voi la pirulisi è una tipologia di impianto a biomassa che è a impatto zero cosa voglio dire praticamente non esiste non c'è una emissione oltre non esiste emissione non c'è una termopolarizzazione ma un processo biochimico che decompone esattamente i cipari da tutto il materiale di risulta dalla potatura dal materiale di scatto in un'impresa agricola media che concentrato in alcune macchine in un impianto che ha probabilmente il dottor conosce già qualcosa comunque il tema è basso è un tema nuovo però che sicuramente potrebbe essere sicuramente l'impatto dell'azienda agricola media è sicuramente di notevole guadagno economico anche senza deturbare territorio o leggera ambient questa pirolisi decompone questi cipari con un processo di decomposizione organica e dei elementi dei microbi praticamente vanno a rosicchiare a mangiare questo cipari facendone alla fine del processo derivare del biocefra che sarebbe il carbone tutti gli effetti carbone quindi il materiale risulta da questa azienda di pirolisi le centrali di masse pirolidiche non sono altro che carbone che come tutti sappiamo per qualche informazione arrivata dalla scuola media e dalla scuola superiori potrebbe essere anche concime per la stessa azienda agricola quindi a quel punto l'azienda agricola che solitamente brucia i propri rami di vita agli rami delle linee potrebbe innanzitutto con quell'impianto a pirolisi scatenare un processo di alimentazione quindi di generazione di energia con un panello portale come un oido a tutti gli effetti in più ricavarne anche un prodotto utile o alla lenta perché può benissimo dotarsi di una macchina di impacchettamento e rimetterlo come carbonella come la carbonella che andiamo a comprare al supermercato sotto casa o addirittura a spazio sul terreno per renderla più libera per la terra con generazione cosa mi raccogge generazione e ripeto per me appena ho sentito questa tematica e mi fa piacere anche citare questa associazione che è nata da poco e che vorrei prima ho visto un rappresentante andato via Arriculture che ha anche avviato dei progetti di orti sinergici e di agricoltura più dinamica che porta avanti anche uno stile di vita abbastanza green a tutti gli effetti quindi mi fa piacere recitarlo come buona pratica insieme a loro sto cercando di ritrovare il finanziamento adatto per rendere questa idea perché non è un'idea innovativa cioè nelle cooperative miliardi e trentine esistono già da parecchio probabilmente come sempre a cascata lo vediamo dopo però non è mai troppo da luce ecco in questo senso mi farebbe piacere se qualcuno di voi e io sono pronto la telecamera registro perciò rimarrà agli atti anche prendere dei vostri spunti per discutere di qualche tematica differente che ancora a cui forse non è arrivata o avete sentito parlare ma che non sapete il preciso di cosa stiamo parlando produzione di detergenti più allegri produzione di detergenti più allegri quindi se se vedete il microfono forse riusciamo a dibattere insieme o no stavo chiedendo se lei ha informazioni in mente per questo argomento perché informandomi su internet per il tipo di lavoro che io faccio ho sempre ho sempre contato con persone ad esempio può sembrare colgato a te ma sono che hanno problemi di allergia dei detergenti normali quindi io nel mio rapporto mi sono costretta spesso ad usare la frutta per fare i comportamenti la verdura il detergento questo è anche un aspetto che potrebbe richiamare una cultura green secondo me da parte della comprensione di dove ci sono persone che comunque nel corso della loro vita incontrano problemi di tipo allergico sui prodotti alimentari sui prodotti che usano per lavare dai panni alla casa e quindi anche il recupero di quelle vecchie tradizioni abitudini delle nove ad esempio assolutamente assolutamente sì tra l'altro c'è un progetto in atto nel comune di Mesagne che vedremo i frutti l'anno prossimo che si chiama Memoria Minerale che oltre a raccordere tutta una serie di testimonianze relative ai processi di commercializzazione di produzione o di altre recette tipiche stanno raccogliendo tutte queste testimonianze dei vecchie metodi di un tempo che in qualche modo vanno ad associare adesso nella nostra di la green cosa che un tempo era semplicemente la normalità stanno sviluppando stanno sviluppando questo tipo di attività economica se parliamo donne casalinghe o anche persone che hanno perso il lavoro e non si ritrovano più nel circuito comunque lavorativo e si frequentano seminari dove imparano a produrre il sapone con le ricchie metodiche usando la cenere di risulta dal legno unico che si sa contiene molta saponina quindi puoi produrre saponi estremamente delicati ed efficaci utilizzando da natura cioè producendo anche creme di qualunque cosa che riguardi sia l'estetica ma anche la pulizia della casa anche di alcune zone dell'industria dove si devono recuperare zone che sono state fortemente inquinate stanno sperimentando questi detersivi più allegri che pare abbiano un buon ritorno sia ecologico che economico una ex dipendente della L'Oreal lei si occupava della L'Oreal di formazione di prodotti cosmetici lei sta implementando un progetto qua sul territorio nel settore del quindi non c'è niente con questa però a me ti interessa perché è un lavoro effettivo nel senso che loro stanno mettendo su un ente di formazione quindi io sono in contatto con questa si è occupata è una formatrice della L'Oreal e mi diceva che un'azienda vicina a una L'Oreal ma che si è sperimentando questa cosa per la L'Oreal loro hanno un terrargo di prodotti cosmetici completamente bio che addirittura possono essere ingolgirati senza punto problema la cosa teoria uno pensa che arriva si può mangiare è una cosa avanti molto avanti già sperimentata in altre parti del mondo però legata al discorso che facevo prima nel senso che comunque la maggiore attenzione alle tematiche ambientali quindi alle tematiche del benessere a 360 gradi comporta che anche una multinazionale come la L'Oreal stia sperimentando questo tipo di soluzioni e quindi aziende satelliti in ambiti di nicchia già sperimentano questo discorso però è diventata anche una forma di lavoro cioè non è diventata anche un lavoro produrre questi detergenti più adeggi proprio perché non hanno questo tipo di impatto non sono tristi sicuramente vengono fatti con i prodotti con quello che una persona si ritrova in casa che sia tutta verdura ventifricio e si sta riscoprendo questo periodo di crisi può essere anche un periodo di opportunità forse anche vecchi metodi che si usavano che usavano i nostri doni e le nostre nonne per vivere diciamo ai simbiosi con al maggior simbiosi con la natura e da avere anche maggior rispetto di se stessi al democra si faceva con un discorso di natura economica poi dopo oggi siamo tornati alla stessa no no siamo tornati alla stessa questione di di prima perché adesso diciamo in qualche modo io non dico che ringrazio la crisi però in qualche modo la crisi oggi ha fatto sì che alcune teste tornassero nel nostro territorio perché molti anche persone che conosco che erano fuori avevano avviato un'attività avevano un impianto in nazioni delle più diverse per proprio perché si sono tornati e hanno portato il loro no-how acquisito da noi e stanno ripartendo da zero ma con un ripartire da zero dove tutti stiamo ripartendo da zero in qualche modo e non è pessimismo ma dobbiamo ancora arrivare allo zero assoluto nel senso che comunque io ringrazio che ci sia questa crisi perché da un certo punto di vista non mi avrebbe mal voluto permettere di conoscere delle persone io parlo dal mio punto di vista personale che veramente sul territorio hanno tantissimo da guadagnare io mi auguro che il sistema territorio possa essere ridisegnato in favore di queste persone e ci sono delle persone veramente persone ma anche entità unioni di persone spontanee che sono rilovate e stanno facendo la mente del bene mi auguro che noi per quello che possiamo faremo di tutto per valorizzarle e se queste occasioni servono per fornire a voi e a chi verrà nei prossimi appuntamenti degli spunti di riflessione anche per far accendere delle lampadine che magari non avreste mai potuto accendere se non avreste parlato con una persona o per un po' con un'altra mi auguro che questi incontri possano fungere proprio da vola iniziale come questi e tanti altri che comunque programmaremo insieme agli ambienti insieme alle università insieme a insieme a tutti quegli enti che al momento del territorio stanno cercando di far ritrovare una passione verso il chilometro zero il prodotto tipico in breve verso noi stessi la cosa che dovremmo fare in primis ogni giorno la nostra storia per valorizzare noi stessi dovremmo andare veramente a ricercare un piccolo passaggio dall'acquisto al fruttivento del non grande per mercato dall'acquisto al a a a fare le fotografie al a non vederlo più soltanto sul tablet sull'iPhone sul no 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 questo forse è un punto di vista estremo però io cerco con questo esempio di farvi capire che probabilmente ritornare a una a uno stile di vita della nonna forse ci farà guadagnare qualcosa e non è un passo indietro forse la nonna è troppo avanti vicino al burrone e noi stiamo donando la di crescita di crescita felice ah ecco quale crescita felice potrebbe essere una uno simolo bellissimo io sono fatta crescita felice comunque ripeto di vista comunque ripeto stiamo attenzionando anche il il tema del turismo sostenibile sul movimento lento quindi in qualche modo il ritorno in bicicletta e qualche sfruttare anche e valorizzare quelle organizzazioni che sul territorio si muovono da tempo sulle biciclette che si sgolano per far utilizzare questo mezzo in tutte le sfaccettature dai bambini accompagnati dalla scuola alle ciclo passeggiate all'alimentare un palco grazie all' movimento di decine e decine di biciclette un palco scenico diciamo non teatrale insomma la bicicletta è un mezzo versatile che ce lo stanno facendo capire in tutte le salse e il problema economico diciamo non è assolutamente costi di mantenimento se non il cibo che mangiamo perciò vuol dire hai un quanto zero perché ci si fa tenere anche in forma eccetera quindi salvo chi per necessità di lavorare con la macchina e non metto il dubbio che sia necessario nei piccoli movimenti di tutti i giorni io rinvito anche voi a utilizzare questo mezzo diciamo anche a pedalata assistita sicuramente ma si sta sviluppando anche lì tutto un business sulla bicicletta a pedalata assistita che può supportare diverse tipologie di smartphone piuttosto che avere degli accessi particolari e dei feedback che ti permettono di calcolare magari quanto stai consumando eccetera anche la bicicletta si sta evolvendo allora da questo punto di vista cercheremo di creare anche degli eventi per capire e per aiutare queste persone che stanno sviluppando da anni forse prima che la crisi intervenisse sul mercato globale che la bicicletta è un bene prima per noi e poi per l'economia mondiale io non volevo parlarvi del GAL perché il GAL ripeto oggi è un ente che si sta movendo fortunatamente bene anche se questo lo possiamo dire solamente a fine programmazione adesso possiamo solamente prendere questi dati che ci stanno arrivando dei progetti finanziati e ci fanno rendere conto che la nostra attività di animazione e informazione è arrivata all'obiettivo quindi i finanziamenti ci sono anche se stiamo cercando di regalire altri interessati e quindi vi dico che tutti i finanziamenti del GAL al momento sono aperti e probabilmente saranno le ultime tornate di apertura perché siamo a fine programmazione il 2013 finisce questa sette e la vita e si passerà alla prospettiva 2014-2020 speriamo che tutti i GAL perché in Puglia ce ne sono 25 possano continuare a vivere per permettere a tutto il territorio di avere il proprio finanziamento la propria parte io dico sempre una cosa se ci fossero enti come il GAL a gestire dei fondi dei finanziamenti regionali mirati sul territorio di riferimento oltre ad avere ciascuno di voi un supporto diretto una faccia con cui parlare un figlio sempre aperto che vi risponde personalmente anche il numero personale sfido a trovare un altro un altro ufficio regionale che possa darvi questa rispondibilità perché effettivamente loro sono su altre prospettive su altre tipologie hanno tantissime cose a cui pensare la dislocazione di questi finanziamenti nella piccola porzione del territorio permette sicuramente a noi di essere in qualche modo di portavoce del territorio e alla regione di non avere migliaia e migliaia di chiamate per ogni piccola puntualizzazione per ogni piccolo problema quindi speriamo che per la prossima volta eventuali altri finanziamenti possiate a possedere l'initi di informazione per altri finanziamenti a Gall e non direttamente alla regione questo è il mio augurio io ripeto spero di essere stato sintetico se avete domande su che qualsiasi cosa siamo qui comunque i saponi più allegri saranno presi in considerazione come anche i padroni di bio sarebbe bello se si formasse proprio delle scuole di recupero degli arti di mestieri secondo me quello che è il come devo dire l'atteggiamento nei confronti della clean economy che hanno altri paesi poi la Germania poi la Svezia la Norvegia cioè è inutile soffrire sempre della sindrome del figlio incompreso soprattutto noi del sud parliamoci chiaro per ogni nostra incapacità cerchiamo sempre una giustificazione dovremmo invece fare outing e capire che dobbiamo andare verso una nuova dimensione di vita e di progettabilità quindi dovremmo capire che se quel tipo di lavoro di cui oggi stai facendo non va bene non c'è richiesta non c'è sbocco perché comunque inquina per qualunque motivo esso sia bisognerebbe capire che bisogna anche cambiare direzione cambiare atteggiamento avere una maggiore apertura mentale e culturale quindi andare in una direzione diversa che quella ecologica come stanno facendo tutte le nazioni occidentali soltanto noi abbiamo sempre questo problema che non sappiamo come fare perché nessuno ci dice come fare gli altri non è andato a dirvelo nessuno si sono creati le possibilità da soli sperimentando e quello che manca a noi come cultura italiana in genere mi permetto di puntualizzare di spezzare una lancia a questo valore di questo discorso questo spetta all'uomo la scelta di cui siamo dotati è un punto al nostro vantaggio ma anche una doppia d'aglio e significa mettersi in gioco e rischiare diciamo il certo per l'incerto non ognuno di noi sarà capace a farlo ovviamente e lì la situazione è naturale però lì entra in gioco la personalità di ognuno è normale che chi ha il coraggio di mettersi in gioco tante volte nella vita probabilmente non costruirà qualcosa di solito però è meritevole di essere così considerato come una persona coraggiosa probabilmente troverà la strada giusta prima volta avrà la strada giusta altri si accontentano altri potranno poteranno potersi l'arte di arrangiarsi parliamo chiaro ci ha portato a questo voglio dire siamo giù al sud abbiamo tante potenzialità non sfruttate l'arte di arrangiarsi secondo me ci ha permesso di sopravvivere ma sì ma sopravvivere è una cosa di vera magra no lo so e sopravvivere ci ha portato a inquinare il nostro territorio perché non abbiamo voluto innovarci e quello è il problema siamo obsoleti essere obsoleti significa anche inquinare il doppio ci sono ancora delle aziende qui da noi anche a Grigore che lavorano con metodiche di 50-60 anni fa quando altre aziende in Emilia Romagna parliamo della Toscana fanno lo stesso tipo di produzioni a impatto non vivo zero io non mi definirei soleno mi definirei ignorante penso perché penso che il principio generale ignorante nel senso noi meglio nati noi no non attribuisco a vecchi sistemi vecchi sistemi erano frutto di quel tipo di ricerca di quel tipo di studio secondo me bisogna tenere presente è un discorso che non possiamo fare solo noi ma un discorso che va avanti per le prossime generazioni di tenere presente che il mondo in teoria dovrebbe essere lasciato migliore di come lo abbiamo trovato c'è sempre qualcuno che in maniera sempre utilizza queste parole non l'abbiamo mai voluto farlo quindi secondo me più che riarrangiarsi dovrebbe ritornare a tenere presente delle cose che l'avranno mai dovuto perdere e che invece abbiamo perso secondo me per cui è un discorso molto più lungo sì sì assolutamente molto più lo dà no 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 diciamo fuori da un ambito no in questo caso bisogna stare attenti lì dove l'innovazione deve essere valorizzata e lì dove il tornare indietro all'allenamento dell'allontore della donna è in un anno e anche inquinamento ci sono sempre state poi le imprese non le hanno rispettate un altro discorso ora non c'è più di amici non c'è più di amici stiamo sì sì stiamo andando in partito cioè stavo in generale dei sapori più negli che quando li sono nella scoperta dell'acqua grado perché è il vecchio meno appunto quello dicevo fino ad un certo periodo di tempo le aziende hanno trovato quel tipo di metodi che potevano essere migliorate sempre quelle metodiche ma non è stato fatto per questioni di economia di scala di rispettare diciamo di risparmio che diciamo hanno scoperto altro tipo di prodotti però che hanno provocato e voglio dire la cronaca spesso ne parla problemi di tumori e questo incide sull'impatto ecologico comunque non poco rossetti o smalti che sembrano delle lavorate però fanno rendire delle malattie di una sedietà incredibile a donne e oggi anche uomini che per motivi di lavoro perché devono utilizzare non mi sembra giusto che mi fai uno smalto o un russetto al piombo e io dopo qualche anno di utilizzo mi ritrovo con un tumore al viso cioè il discorso green come dicevamo prima è a 360 gradi quindi la tensione l'attenzione deve essere sul consumo sulla produzione di prodotti bio a chilometro zero deve essere però la stessa attenzione anche su quello che noi mettiamo addosso che siano i tessuti che siano i saponi che li mettiamo addosso no li mettiamo addosso ai nostri figli e quindi voglio dire se non poniamo questo tipo di attenzione e anche non finanziamo che devo dire progetti cultura progetti di cultura se non abitriamo anche i ragazzini a pensare in maniera ecologica sufficientemente penso che poi tutti quelli che sono dei progetti che siano fotolontali intelligente e olico quant'altro avranno per poca per poca utilizzo prego va bene e per quanto riguarda mi è riscattato per quanto riguarda il discorso Gall e i suoi finanziamenti ci siamo abbastanza abbiamo dato un attimo un'unità di base o avete bisogno di qualche raccogliare seno morali del Gall 8.30 13.30 e 15.30 19.30 20 poi lo conosciamo poi il presidente era fattore per cui loro sono sempre sono sempre attivisti sul territorio per cui assolutamente e il resto io volevo invitare per i prossimi incontri nel prossimo incontro vedremo tra le più belle realtà di ciò che il biologico parlavamo dell'edicoltura eccetera e un genero che è una realtà a livello nazionale forse più importante che possiamo avere parleremo di questa esperienza di un'azienda che in questo settore è riuscita a fare qualcosa di molto molto strutturato molto grande e molto ben ramificato nel territorio avremo anche Libera Terra e quindi parleremo anche di questo tipo di esperienza e per dare come dicevo all'inizio degli spunti e delle idee le normative di base su questo settore per chi voglia in qualche modo di prescrirci e vedere avere una minima luce sul discorso che anche io vediamo come strigliato i finanziamenti e così vedremo anche gli altri settori purtroppo un po' perché siamo in Italia e così un po' perché ci sono davvero tante cose da tanta carne da mettere sul fuoco e l'aspetto di tutte le informazioni sono davvero molto vaste noi cerchiamo di darci anche nel senso che con noi questo corso si chiama collaboratore da basso proprio per questo perché parte su una nostra voglia di sapere noi dal punto di vista del cambiante aperta a chiunque abbia voglia di informarsi in questo settore e speriamo che sia ad esempio più come Rossi e di guidarvi il più importi possibile noi la nostra sede siamo a Mbisaglio del freno di appena 189 vicino a Andes ospedale vicino e in qualsiasi momento siamo sempre aperti lì per qualsiasi tipo di informazione se per voi è stata opportuna concludere io saluterei e vi do per la prossima cosa buona sera grazie